ALEXANDRO ALEXANDRO LA RIMETTE SUL SECONDO FLAUDICE DI MARIA DI MARIA ECHEEE NEL FIDEO NEL FIDEO NEL FIDEO CAMPIONE ECHEEE Benvenuto al vostro campionato Bienvenido ALECHEEE Non lo colpisce se va a presto prossimo GOOOOOO E' IL FIDEO 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 BELLO COSÍ BRAVO ALEX CHE CROSS TI HA FATTO MI EMOZIONO MA TU DICIATI 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 GASTI DI ALEXANDRO TE HA TETTO CHE ARRIVANO IL GOL E' IL TU DICIATI E' IL TU DICIATI E' IL TU DICIATI SCARICA DIETRO ALEXANDRO PARTE IL CROSS TROPPO LENTO PERO DI MARIA PROVA A TIRARE al primo tiro con la maglia della juventus si al primo tiro di Mario di Mario di Mario